Anche Felix voleva bene a Ross e Ross voleva bene a Felix, però poi Ross se n'è andato morto prima e Felix è rimasto da solo. Felix Gonzalez Torres, nella vita faceva l'artista. Felix era nato a Cuba, ma poi aveva studiato a Puerto Rico e poi si era andato a New York perché doveva specializzarsi in fotografia e aveva preso il master in fotografia. Quando Ross muore nel 1991, Felix rimane solo, ma il Museo d'Arte Moderna di New York gli chiede di esporre un'opera, una sola. E Felix espone una fotografia, una fotografia che aveva scattato poco tempo prima della morte di Ross. Questa. Un letto, il letto dove Felix e Ross dormivano insieme e su questo letto due cuscini e sui cuscini le federe con il segno della nuca, la loro nuca. Una bella foto, niente da dire, ma Felix non era solo un fotografo, era un artista e gli artisti usano tutto quello che hanno a disposizione. Gli artisti usano le fotografie, gli artisti usano la scultura, gli artisti utilizzano i materiali di cui è fatto il mondo, anzi i veri artisti sono proprio quelli, sono quelli che riescono a farci sembrare artistico il mondo, le cose del mondo. E quindi questa fotografia, una bella foto, niente da dire, ma non bastava per farne un'opera d'arte. E Felix lo sapeva e allora espose questa fotografia in un luogo ben preciso. Oltre al museo d'arte moderna di New York, lui affittò 24 spazi espositivi sparsi per la città di New York. Quegli spazi dove di solito si mettono le fotografie dei profumi, delle automobili, dei vestiti. La espose lì quella fotografia, ma senza niente, senza un telefono, senza un indirizzo da contattare, niente. La fotografia e basta. Il letto, il loro letto. Nel 1992, l'anno dopo la morte di Ross, l'AIDS era ancora un tabù. Ed esporre quella fotografia lì dove di solito c'era un prodotto da pubblicizzare, beh, significava dare una grande testimonianza d'amore nei confronti di chi quella malattia si era portato via. E poi un'altra opera, questa, perché Felix e Ross per molto tempo sono stati come due orologi che hanno segnato la stessa ora. Due orologi uguali che hanno segnato la stessa ora. Poi un giorno l'orologio di destra si è fermato, la lancetta dei secondi si è fermata, perché la batteria si è scaricata per sempre. E poi, quando sul quadrante di questi orologi la lancetta si è fermata, l'amore comunque è continuato. L'amore è continuato anche dopo, anche dopo la morte di Ross. L'amore è continuato nei quadranti degli orologi, l'amore è continuato nei manifesti pubblicitari esposti in giro per New York. E a me piace pensare a quegli automobilisti che sono lì in fila al mattino davanti a queste immagini, a questo letto, chissà cosa si saranno chiesti. Ma che merce è questa? Che cos'è? Beh, è una merce che non ha prezzo, amico. È una merce che si chiama amore.